A seguire una cosa molto importante che non dobbiamo mai tralasciare, soprattutto in un trucco da sera, è solo le sopracciglia. Quindi partendo dall'origine delle sopracciglia abbiamo dei piccoli colpetti di matita, seguendo il verso del pelo, bene bene bene, giusto per avere un minimo di profondità e incominciare l'occhio. Dopo di che giriamo dall'altra parte della matita e delicatamente pettiniamo il prodotto seguendo il verso del pelo, ogni ripare che comunque le sopracciglia si muovano, non c'è per stare un po' più tranquilli, utilizziamo il nostro eyebrow design, quindi sempre una piccola quantità di prodotto che ci aiuta a eliminare, l'aggressivo di polvere dalle sopracciglia, tissandola. Successivamente applicheremo il nostro Perfect Touch 369. Una piccolissima quantità di prodotto partendo dall'origine dell'occhio e seguendo tutta la carta sopraccigliare e come ho insegnato prima dalle piccoli colpetti del pastello, cercando appunto di omogenizzare il prodotto alla zona pericolare e creando un meraviglioso e naturale punto luce che successivamente incipieremo con un pochino l'ombretto. Questo passaggio è terminato.